Quest'anno la direzione regionale dell'Inps Toscana ex IMPDAP finanzierà direttamente nove progetti di assistenza domiciliare che riguardano più di 800 dipendenti pubblici in pensione o loro familiari non autosufficienti. I fondi per i progetti, 5 milioni e 700 mila euro, sono stati prelevati dalla Cassa di Credito e Attività Sociali dell'InpDAP, l'istituto a cui i dipendenti pubblici versano i contributi previdenziali e che l'anno scorso è stato incorporato dall'Inps. Questo ci permetterà di assistere direttamente i pensionati e di permettere agli enti locali di destinare le risorse che ormai per definizione sono scarse alla platea rimanente. L'intera operazione è stata gestita attraverso un avviso pubblico nazionale rivolto agli enti locali. In Toscana le domande accolte sono state presentate dalla provincia di Arezzo, dalle Asle di Siena e della Versilia, dalle società della salute di Mugello, Valdarno Inferiore, Pisa Firenze, Fiorentina Sudeste e Fiorentina Nord Ovest. Speriamo che l'anno prossimo anche gli altri enti per l'altra quota della Toscana facciano domande in modo da estendere il servizio a tutto il territorio regionale.